Questa è la parte più a nord della Nuova Zelanda, è la prima Nuova Zelanda. Questa è la prima Nuova Zelanda, è la prima Nuova Zelanda. Questa è la prima Nuova Zelanda, è la prima Nuova Zelanda. Questa è la prima Nuova Zelanda, 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 è la prima Nuova In Italia sono le 6 di mattina e qui le 6 di sera. Abbiamo dormito 10 ore qui dentro, nell'ostello, prima notte in Nuova Zelanda. Evidentemente dopo che facciamo una notte in bianco sull'aeroplano, abbiamo bisogno di dormire. Le grotte di Waipu. Ma qui siamo all'interno di Fantaghiro. E qui sono le felci tipiche di qui della Nuova Zelanda e anche simbolo nazionale. Ciao Mucca, come ti chiami? 424. E tu? 545. Voi sull'Avril, prendere il ferro. Sono già le 5.27 di venerdì 8 dicembre 06. E qui questo? 545. E qui ci vedremo? E qui ci vedremo? E qui attendrà, poi ti vedremo? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti